Buonasera a tutte e tutte, scusate prima c'era stato un piccolo problema con il subitissimo. Vi ringrazio per essere con voi qui stasera, questa nuova puntata della storia a porte chiuse, anzi della cultura a porte chiuse. Molti di voi già mi conoscono, per chi non ha ancora avuto modo di conoscere questa rassegna che è giunta al suo decimo mese di realizzazione. Io sono Manuela Capece, amica degli amici della Certosa, amica del Museo del Risorgimento e autrice del blog Fluttuando sulle linee in cui mi occupo di connessione con l'est Europa e Russia e infatti anche nella diretta di stasera parlerò con voi di un personaggio che ha avuto qualche piccolo contatto con l'est. Con voi voglio parlare del Cardinal Mezzofanti, uno dei poliglotti più famosi della storia e uno degli elementi più generali che noi conosciamo. Partiamo dall'osservazione della e dalla lettura delle due di una doppia lapide presente qua a Bologna in via Malcontenti, scusate. Su una troviamo scritto, qui nacque Mezzofanti, il sol che apprese mirabilmente il dir di ogni paese, antico bilinque. Nella lapide in basso troviamo, qui ov'era una bottega del legnaiuolo Giuseppe Mezzofanti, Massimo dei Poliglotti. Nel 1780 Francesco suo padre trattava la pialla e la sega. Questa è la doppia lapide. Vedo che la linea continua a darmi segnali strani, spero mi sentiate, anzi se riuscite a mandarmi qualche segnale che mi state sentendo, mi tranquillizzate anche. Allora, il prodigio bolognese che abbiamo avuto. Giuseppe Gaspare Mezzofanti nacque a Bologna il 17 settembre del 1774 da una famiglia di umili. usava la professione di artigianza per la sua creatività e per la sua ingegnosità, nonostante non ebbe mai modo di frequentare le scuole, non ebbe quasi alcun tipo di animazione. La madre invece, nonostante appartenesse a uno stesso basso lignaggio, riuscì comunque a studiare e questo motivo ci tenne particolarmente all'istruzione di suo figlio. E meno male anche che persone eccezionali è stato mezzofanti sotto tantissimi punti di vista. E quindi trascorse comunque un'infanzia molto povera, un'infanzia molto negleccolo a lavorare presso la bottega del padre. Molto spesso all'esterno della sua bottega, come dirimpettaio, ebbe un anziano prete che insegnava la lingua latina e la lingua greca a un piccolo gruppo di ragazzi. Il nostro giovane prodigio, essendo molto bello, deve modo di farsi conoscere da questo prete che rimase ragazzo giovanissimo, apprendeva velocemente le lingue. Infatti iniziano i suoi studi che lo porteranno ad essere il personaggio straordinario e strabiliante che oggi conosciamo. Inizia il suo percorso scolastico. All'inizio si può scrivere tutto il scolastico solo per quello che poteva far bene alla propria azienda di famiglia. Invece la madre lo spronò tantissimo ed ebbe anche l'appoggio del sacerdote dell'oratorio che il giovane Mezzofanti frequentava. Padre Giovanni Battista Respighi, che colpito dal talento del giovane, lo incentivò a frequentare le scuole Piedi Bologna. All'interno delle scuole Piedi Bologna c'erano tantissimi insegnanti gesuiti. Annullate, l'ordine era stato soppresso in Spagna e quindi erano esuli all'interno all'interno dello Stato Pontificio e ebbe i figli all'aritmetica, la matematica, il latino, il greco, grazie a questi eccezionali insegnanti gesuiti. Oltre alla mezzofanti mostrò ben presto il desiderio di abbracciare la vita ecclesiastica e nel 1786 si iscrisse al seminario Arcivescovino, però anche lo studio delle lingue. Infatti in quegli anni quali lingue impara? Lui le imparava, io devo anche leggere per ricordarmi quali. Imparò il greco, il copto, l'ebraico, l'arabo, lo svedese, il tedesco, insieme allo studio della filosofia e della... Fanti ricevette la clericale tonsura nel 1795 e venne ordinato sacerdote e ricevette la cattedra di Epo orientali presso l'Alma Mater Studiorum. Fino a piccolo portavano i primi frutti, ma purtroppo questa parentesi felice ebbe brevissima durata. Perché? Perché a Bologna era prossimo l'arrivo delle truppe francesi che avrebbero fatto abbracciarsi della Repubblica Cisalpina e durante quel periodo veniva imposto il giuramento agli impiegati pubblici, quindi anche i docenti universitari. Mezzofanti e da personalità c'erano. Questo rifiuto però cosa costava? Questo rifiuto costò l'allontanamento dal loro lavoro, dall'università. E quindi ci furono degli anni molto pesanti, da un punto di vista non solo psicologico, ma da un punto di vista anche remunerativo per il nostro giovane. E però nonostante questo non smise mai di apprendere le lingue. Anzi, e mantenne sempre alta l'eccezionalità del suo apprendimento. Diventa un pallone barcamenato tra francesi e austriaci. L'Austria era in... Il nostro portico è un pallone barcatare per il tuo botone che vuori del suo apprendimento.